Se chiedete ad un runner qual è la cosa che teme di più, molto probabilmente vi dirà che teme di infortunarsi. Eh sì, perché gli infortuni sono purtroppo una costante nel mondo della corsa odierno. Più dell'ottanta per cento dei runner ogni anno si infortuna a causa della corsa. Persino alcuni professionisti si infortunano con una certa regolarità e tutto ciò ha portato a vedere la possibilità di infortunarsi come un qualcosa di normale, un qualcosa che capita, un giusto prezzo da pagare per migliorare nella nostra corsa. Ma questo non ha alcun senso, specie se guardiamo la corsa per ciò che veramente è, una nostra forma di locomozione. Capisco se stessimo parlando di sport di contatto come la box o ad esempio il rugby. In quel caso si sa bene che infortunarsi è una possibilità reale, ma nella corsa tutto questo non dovrebbe capitare. Se ci infortuniamo dunque la colpa non è della corsa ma nostra ed è riconducibile ad una di queste tre cause. La prima è che non abbiamo ascoltato i messaggi del nostro corpo e lo abbiamo spinto oltre i suoi limiti attuali. La seconda che non abbiamo ancora un corpo che si possa permettere di correre. E la terza che non sappiamo correre. Cominciamo dal primo, uno degli errori più gravi che si commettono oggi e sui quali lavoro intensamente con tutti i runner che seguono la coaching experience di correre naturale, il non saper ascoltare il proprio corpo. In molti troppi runner infatti escono a correre senza chiedersi in che condizione si trovano i loro muscoli, i loro tendini, le loro articolazioni. Alcuni addirittura se hanno un fastidio o anche un dolore scelgono di correrci sopra, sperando che così facendo questo passi da solo. Molto spesso decidono di non saltare l'allenamento perché sono vicini alla gara che stanno preparando. Ci sono runner che gareggiano e non si fermano nonostante l'infortunio. Assurdo, non trovate? Lasciate che vi dica una cosa, al vostro corpo non gliene frega niente se avete la tabella, se il giovedì ci sono le ripetute o se domenica dovete affrontare una gara. Se vi siete infortunati probabilmente ha passato settimane se non mesi a cercare di avvisarvi del problema e alla fine ha dovuto ricorrere all'infortunio per imporsi su di voi e fermarvi per costringervi a recuperare. Un consiglio quindi, non insistete oltre. Se siete infortunati fermatevi e date al vostro corpo modo di recuperare. E in futuro non ignorate mai più ciò che cerca di dirvi, ma anzi fatevi sempre più sensibili a capire come vi sentite durante e dopo le vostre corse. Non sottovalutate alcun segnale, imparate a capire giorno per giorno se potete davvero permettervi gli allenamenti che avete programmato o le gare che avete in mente. E se così non è, semplicemente evitate. Vi assicuro che non accadrà nulla se salterete una gara o qualche giorno di allenamento. Anzi, molto probabilmente questo vi permetterà di non incorrere infortuni e recuperare al meglio per riuscire poi ad allenarvi e migliorare. Il secondo problema che affligge molti runner e può portarli all'infortunio è il non avere un corpo che si possa permettere di correre. Che cosa voglio dire? Beh, se è vero che la corsa è una nostra forma di locomozione, è una forma di locomozione dell'essere umano, è altrettanto vero che per svolgerla al meglio bisogna possedere l'abilità di un essere umano o meglio di un essere umano in natura. Quindi sto parlando di possedere muscoli forti, una mobilità articolare ottimale, tendini elastici, saper come respirare correttamente e moltissimi altri aspetti. Tutte queste caratteristiche purtroppo spesso mancano nell'essere umano moderno che in molti casi vuole passare dalla sua vita sedentaria direttamente a correre più volte a settimana senza chiedersi se è pronto per farlo. Ed è così che si verificano fastidi, infortuni, frustrazioni. Corpi che in alcuni casi non sono nemmeno pronti per camminare vengono portati a correre a velocità e ritmi che mai hanno conosciuto e mai sperimentato nella loro vita. Il mio consiglio è questo, non badate a chi vi dice che per correre basta indossare un paio di scarpe e mettere un piede davanti l'altro. Correre non è un gesto banale, è un gesto impegnativo e bisogna oltre a saperlo fare possedere un corpo in grado di sostenerlo. Prima di pensare a correre pensate a costruire un corpo che si possa permettere di farlo. È un aspetto talmente importante questo che vi dedico delle intere lezioni durante il percorso dell'Accademia della Corsa di Correre Naturale. Lezioni su come riacquisire una mobilità articolare ottimale, allenare la forza funzionale alla corsa, rieducare la respirazione tra le tante altre. Sono tutti aspetti questi che dovrebbero rientrare nella routine di ogni runner. Se volete evitare gli infortuni nella corsa quindi dovete costruire un corpo per correre. Infine arriviamo al terzo aspetto e causa dei molti infortuni che affliggono i runner, il non saper correre. Perché è così, molti runner si muovono nello spazio ma non stanno correndo. Non saper correre li porta quindi ad utilizzare i tendini, i muscoli e tutte le strutture del loro corpo adibite alla corsa in modo completamente sbagliato. Non solo, questi runner spesso durante la corsa hanno difficoltà o trovano addirittura impossibile mantenere il corretto atteggiamento verso i quattro principali pilastri della corsa. Postura, ritmo, relax e appoggio del piede. È evidente come questa sia una ricetta perfetta per gli infortuni. Ciò che è più grave è che molti di loro sono totalmente inconsapevoli di avere una tecnica di corsa errata che lo scoprono solo quando, frustrati per i troppi infortuni, si sottopongono ad un'analisi video della propria corsa. Voi però non aspettate di dover smettere di correre per imparare a farlo. Investite fin da subito sull'imparare le corrette basi della corsa e vedrete che non dovrete smettere mai. Ricapitolando, che cosa impedisce al corridore di infortunarsi? Innanzitutto il saper ascoltare il proprio corpo, poi possedere un corpo che si possa permettere di correre ed infine il saper correre correttamente. Queste sono caratteristiche su cui tutti i runner dovrebbero lavorare con priorità, molto prima di pensare alle gare alle distanze o al passo al chilometro. Se continuate ad infortunarvi, se la corsa non vi fa stare bene, qualunque risultato otterrete sarà effime e non sostenibile. Al contrario invece, se investirete sulla corsa, se darete prima di chiedere, allora vedrete che i risultati e i traguardi che otterrete andranno oltre le vostre aspettative. E allora io vi auguro buone corse e mi raccomando, godetevele! Quando si parla di allenamento tutti si concentrano su ciò che devono fare quando vanno a correre. In pochi però realizzano che andare a correre è solo una piccola parte dell'allenamento per la corsa.